Salve, recensione del nuovo CD di Sepultura, quadra come i quattro cantoni, quadra come numero quattro, ossia come solidità numerologicamente la manifestazione nell'ambito della realtà, quattro come a volte in tarologia, nel quattro risulta anche la noia perché diciamo oltre quel quadrato poi per quanto si possa fare c'è necessità di evoluzione, è un poco secondo me in questa maniera il CD, è quadrato per alcuni aspetti, non perché è privo di innovazione, anzi il gruppo cerca veramente di fare un lavoro di innovazione, sia perché va a inserire elementi prog all'interno del lavoro, sia perché va a cercare, almeno su alcune song, una fase di recupero di quelli che sono gli aspetti tribal del loro sound, e sia perché cerca, inserisce all'interno del lavoro quelli che sono alcuni cori che in parte a me ricordano un po', non tanto nel come sono posti, ma proprio nella produzione come sono posti, un po' Eonian dei Dimo Borgir, semplicemente per la vocalità, ma può anche darsi che sono stati prodotti in zone vicino, questo non lo so, quindi un lavoro che inizialmente parte bene perché l'opener spacca, l'opener spacca si fa sentire effettivamente fra aspetti cori e aspetti molto aggressivi, ci fa veramente, ci dà quella sensazione piacevole di ascoltare qualcosa di piacevole. questo diciamo si protrae anche per le prime 3-4 canzoni dove è manifesta una forte aggressività diluita diciamo da alcuni aspetti operistici e anche il recupero dell'aspetto tribal, secondo me il CD è troppo lungo, questo perché ad esempio c'è pentagram che poi sarebbe il famoso 5 che ci vorrebbe nel gruppo, ad esempio è una lunghissima strumentale, lunghissima per essere solo strumentale, che per il mio punto di vista inizia a dare il primo pugno a un poco di stanchezza, perché il CD è bello, il CD offre spunti, al primo ascolto probabilmente non piace, al secondo si fa sentire con piacere, il terzo ascolto è come se iniziassero ad emergere quelli che poi potrebbero essere dei difetti, ossia questa ricerca un poco troppo, fra virgolette, forzata nel voler proporre soluzioni prog, nel voler proporre soluzioni tribal, quasi a volersi, secondo il mio punto di vista, staccare da quello che è la base di head trash del momento. Il quarto ascolto dipende da chi poi vada ad ascoltare, perché lì potrebbe emergere quella che è una sensazione di stanchezza dovuta al fatto che, secondo me, troppe canzoni, troppe soluzioni, in alcuni punti non perfettamente, secondo me, amalgamate, creano quella sensazione che non ti fa ripetere la voglia di ascoltare un CD. Questo accade soprattutto quando ci sono delle soluzioni che, fra virgolette, vanno un poco a stonare, secondo me, a non integrarsi bene, perché, ripeto, la prima canzone è veramente una botta in testa, è fatta benissimo, è quello, se il CD mantenesse quell'incipit, secondo me, si farebbe riascoltare molto più volte. E quindi poi sta a noi stabilire se ridare comunque ascolti al lavoro o no. Ripeto, un lavoro che è fatto bene e che fa emergere comunque la voglia del gruppo di andare avanti, di rinnovarsi, aspetto che va sempre, sempre stimato da parte di un artista quando cerca di creare del nuovo. Rispetto agli altri addirittura comunque lo preferisco, rispetto agli altri dell'ultimo periodo, diciamo. Quindi io gli darei un ascolto. Chi è fan del gruppo si sa, i fan lo ascoltano e basta. Chi non lo è specificamente consiglio da parte mia di ascoltarlo prima e poi acquistarlo, proprio per quanto dal mio punto di vista ho detto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.